Ok, dai, avanti! Ciao! Io ho studiato praticamente recitazione per 68 anni nelle più grandi accademie del mondo, da Londra, New York, ma passando anche per... Il prossimo! Ma lo sai che se incontri un orso e ti fingi morto hai il 100% di possibilità di non essere attaccato da uno squalo? Il prossimo... Mi spiace. Mamma mia, come sto! Preso, perfetto, il prossimo. Preso, perfetto, grazie, il prossimo. Bravissima presa, grazie, il prossimo. Lei è? Fatta. Perfetto.